buongiorno signora che cosa cerca vorrei un chilo di uva e una lattuga per favore ha bisogno di qualcos'altro? ah sì, avete delle ciliegie? no signora, non è ancora? la stagione delle ciliegie sennò ho la melagrana no grazie, va bene quando è la stagione delle ciliegie? è in estate, intorno a giugno quali frutti tropicali avete? ho dell'ananas voglio prendere anche un'ananas quanto costa in totale? tre euro e cinquanta per l'uva novanta centesimi per la lattuga e un euro e cinquanta per l'ananas cinque euro e novanta in totale ecco, grazie arrivederci arrivederci signora grazie a tutti grazie a tutti